Sono Emilio Barbieri nel ristorante Strada Facendo di Modena. L'aceto balsamico tradizionale di Modena è un elemento indispensabile nella nostra cucina. Si presta per moltissime preparazioni, sia di crudo che di cotto. Dà dei profumi, degli aromi che sono indimenticabili e insostituibili con qualsiasi altro prodotto. Oggi lo faccio vedere proprio con del pesce crudo, della carne cruda, carne cotta e delle verdure. Andiamo a presentare come si può abbinare l'aceto balsamico con un pesce crudo. In questo caso è un aceto balsamico con estratto di arancia. Tagliamo il tonno, facciamo una piccola tartare di tonno con del sale di Maldon. E' un sale speciale del nord Europa. Mettiamo alcune verdure intorno, alcune zest di arance. Sono delle piccole scorzette di arancia candita. E andiamo a finire il piatto con il nostro balsamico d'arancia. Un piatto ancora di crudo. E' un'ombrina preparata con la verza. Qui andiamo a mettere questo balsamico bianco. E' un balsamico non tradizionale, però sempre fatto con tutti i criteri del balsamico. Olio extravergine, delle scorzette di limone e sale. Andiamo a tagliare la nostra ombrina, la verza, l'olio extravergine di oliva. I balsamici in generale chiedono sempre degli oli molto leggeri, molto fini. In questo caso è un olio del lago di Garda. Andiamo a mettere il nostro aceto bianco. E finiamo il nostro piatto con delle piccole zest di limone. E qui abbiamo un piatto leggerissimo con una verdura veramente eccezionale. Ciao!